ciao ragazzi sono eliseo di salvatore continuate a seguirmi sul mio canale youtube chioccio eliseo di salvatore vi do un piccolo consiglio riunitevi in due in tre in modo da allenarvi insieme da condividere questi questi momenti di divertimento perché ricordatevi che il divertimento crea sempre apprendimento quindi fate piccole sfide sempre sane senza prendervi in giro però qualche piccola qualche piccolo giochino qualche piccola sfida secondo me aumenta un pochino la competizione e non guasse secondo me aiuta a migliorare oggi vi faccio vedere uno slalom in palleggio guardate avete visto ho fatto un piccolo 8 fate dei piccoli percorsi mettete più palloni fatelo più lungo fatelo rettilino senza andare in slalom fate qualche piccola sfida a chi arriva prima oppure chi fa più tocchetti all'interno del del percorso allenatevi ragazzi condividete e soprattutto divertitevi ciao a tutti